Qui attorno a Casse del Monte abbiamo dei sentieri adatti a tutti che si snodano per lo più su delle antiche mulattiere percorse un tempo dai contadini per raggiungere i campi coltivati. Abbiamo vari tipi di sentieri di vario di livello che vanno delle passeggiate semplici, adatte a chiunque, a sentieri che richiedono preparazione fisica adeguata fino a dei veri e propri percorsi alpinistici che conducono alle vette più elevate della catena del Gran Sasso. Ci sono delle associazioni che promuovono dei trekking che si spostano tra i vari massicci della regione. Venite a trovarci in Abruzzo, scoprirete cose meravigliose. Grazie.